Dati contenuti nel bollettino sanitario di oggi, di questa giornata del 24 maggio. E dunque rispetto a ieri si registrano 15 nuovi casi di età compresa tra 5 e 86 anni, individuati su 1.298 tamponi molecolari e 269 test antigenici, con un tasso di positività pari allo 0,9%. Il bilancio dei deceduti registra un caso, si tratta di un 85enne, e sale a 2.469. I dimessi guariti sono 73 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 5.908, dato questo che scende di 59 unità. 183 pazienti, più 5 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 17, e il numero resta invariato, sono invece i posti letto occupati in terapia intensiva, mentre gli altri 5.708, meno 68, questo è il dato che flette, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi in provincia di Chieti ce ne sono più 9, in provincia dell'Aquila se ne registrano più 3 rispetto a ieri, in provincia di Pescara ce ne sono più 2, resta invece invariato il numero di positivi in provincia di Teramo. E tutto questo mentre il governatore Marsilio scrive al ministro della Salute Roberto Speranza per chiedere di anticipare a lunedì prossimo l'ingresso dell'Abruzzo in zona bianca, attualmente previsto per il 7 giugno in assenza di un mutato quadro epidemiologico. Nel caso in cui il ministro non dovesse assecondare la richiesta per l'intera regione, il presidente Marsilio ha proposto di disporre la zona bianca dal 31 maggio almeno per la provincia di Pescara, che ormai da oltre un mese ha un'incidenza settimanale di contagi inferiore ai 50 casi su 100.000 abitanti.